Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, buona giornata a tutti quanti voi, sono passati due giorni, questo è il secondo giorno dalla disfatta di Napoli, bisogna rialzare la testa? Sì, tuttavia ho alcune perplessità da ora in avanti, non voglio infondervi pessimismo, anzi spero che il tutto vada per il meglio da ora in poi. Al di là di tutto, il mio pensiero rimane quel che vi ho detto e ve l'ho detto, non ribadirò più il mio pensiero su Allegri, lo sapete, se la società a giugno lo cambia, per me fa una buona scelta. Ad oggi credo che sia difficile questo scenario per essenzialmente due ragioni, la prima è di natura dirigenziale, la struttura dirigenziale in questo momento è una cozzaia di commercialisti che sono impegnati su un altro fronte e sapete bene il quale. La seconda è l'assenza o una posizione vacante che è fondamentale per la programmazione sportiva, la presenza di un direttore sportivo. E se la Juventus come dirigenza, una volta messa la testa su queste beghe giudiziarie che ci coinvolgono, poi inizierà magari a ragionare sulla parte sportiva, probabilmente andrà a prendere un direttore sportivo nuovo. E credo che questa figura dell'allenatore vada messa in discussione dal direttore sportivo stesso. Chi arriverà avrà il compito di decidere se tenere o cacciare Massimiliano Allegri. Di conseguenza, in base a questa scelta, eventualmente chi prenderà il nuovo direttore sportivo, un nuovo allenatore, sebbene arrivasse questa cosa qua, chi sceglierà? Ma questi sono problemi molto postumi, al di là di quello che il nostro pensiero, positivo o negativo, nei confronti di Massimiliano Allegri. Il punto è che bisogna portare la barca in porto a fine stagione. Non credo allo scudetto, non credo che siano preparati. Il Napoli ha dimostrato di essere di tutt'altra pasta. Milan e Inter stanno zoppicando, sono claudicanti esattamente come noi, perché ho visto un Inter in difficoltà con la Las Verona. Ho visto un Milan che va a Lecce e pareggia. Per cui le squadre e le inseguitrici sono in affanno. E quindi credo che l'obiettivo rimarrà per la Juventus, con una grande ridimensionata da inizio campionato. Perché a inizio campionato gli obiettivi per la società e l'allenatore erano altri. Era lo scudetto. Si è andato in una ridimensionata, ovvero il posto in Champions League. Tuttavia, credo che questa partita col Napoli abbia spazzato diverse certezze che la Juventus stava iniziando ad avere o a convincersi di avere. La solidità difensiva, spazzata via con le 5 letti, fatte in una sola gara. Poi che possiamo dire? I secondi tempi fatti bene? I secondi tempi, ragazzi, non siamo entrati in campo. E poi ci sono le parole di Danilo. Danilo che va lì e dice Io da domani voglio analizzare il calcio. Basta parlare di aspetti mentali, di lettura dei momenti e di queste cose. Il problema non è mentale. Ne abbiamo parlato diverse volte anche in passato. Il problema è il calcio che esprime la Juventus. Che poi il problema possa essere in parte tecnico, perché magari alcuni giocatori non sono all'altezza di grandi squadre. Può anche essere. Ma ciò non esclude il problema tattico. Anche perché, io credo una cosa, nelle parole di Danilo, che sono sempre pesate, da persona riflessiva qual è, non c'è la frase Siamo inferiori tecnicamente, sono stati migliori di noi perché sono più forti. Non ha detto questo. Ha detto Noi non siamo né scarsi e non siamo dei fenomeni. Questa cosa l'ha detta. Per cui ha detto Basta dipingerci come scarsi, basta dipingerci come fenomeni. Siamo degli ottimi giocatori, ma esprimiamo un calcio di merda. Questa è la sintesi delle parole di Danilo. Per cui io credo che Internamente la Juventus parlerà di calcio. Per cui Allegri, secondo me, sarà stimolato dal gruppo stesso a trovare delle soluzioni. Fino a fine stagione. Poi vediamo che soluzioni troverà. Perché io credo che Quella partita la col Napoli va a spazzare delle certezze che abbiamo costruito in quelle 7-8 partite Dove abbiamo vinto di muso corto, con delle buone prestazioni. Lazio-Inter, isolate. Lì, in mezzo, incastonate tra le brutte prestazioni. Il punto è il seguente. Una volta che l'allenatore che va a dare una determinata mentalità, Che va a dare quei principi, che la Juventus attua in campo. Si costruisce una certa fama. Nel senso, bene, l'allenatore ci sta guidando verso il punto giusto. Ma poi arriva la tua avversaria di rete e spazza via ogni certezza che avevi costruito fino a quel momento. È difficile ripartire. È difficile che il gruppo dia lo stesso credito all'allenatore. E il mio timore è proprio questo. Quelle 8 partite ci siamo convinti di una cosa. Poi è arrivata una squadra come il Napoli. O io per la notte la partita è un po' al Benfica. Un po' come il Benfica, che ha alzato un po' il ritmo. Che ha giocato bene, tecnicamente, tatticamente. Che non ci ha fatto respirare. Ha spazzato via quelle poche certezze che avevamo costruito. Io mi chiedo, come farà il gruppo a ripartire dagli stessi dettami tattici che questo allenatore ha? Cioè, io faccio veramente fatica. In particolare credo che l'urlo disperato di Danilo a fine partita sia un campanellino d'allarme. O un campanellino d'allarme o comunque una punzecchiatura all'allenatore per stimolarlo a fare qualcosina in più. Questo è la cosa che sento. Però immedesimatevi voi in un'azienda dove avete un capo che non è particolarmente... Non dico brillante, perché sarei ingeneroso e non voglio usare aggettivi impropri. Che ne so, un capo che magari dà pochi dettami e dà tanta libertà ai dipendenti sul da farsi. Quando le cose vanno male e l'allenatore vi darà due o tre indicazioni, ma quelle due o tre indicazioni poi non sono utili alla risoluzione dei problemi. Quando quell'allenatore vi parlerà per un'eventuale partita successiva, in questo caso quando il vostro capo vi parlerà di risolvere un eventuale problema successivo, e voi su quei dettami, insomma, magari li fate, ma con scetticismo. E io ho paura che si inneschi questo meccanismo di sfiducia nei confronti del dettame tattico di Allegri. Quindi Allegri è costretto a cambiare. È costretto a cambiare qualcosa perché se vuole conquistare la fiducia inizialmente dei suoi e dare una struttura solida ai ragazzi, un calcio funzionante, uno spartito funzionante, deve fare qualcos'altro perché quel che ha prodotto finora lo stesso Massimiliano Allegri è alquanto insufficiente. E io credo che se Sintestardirà sulla sua posizione tenendo questo calcio, il rischio è che lo spogliato io si sfasci. Questa è la mia opinione. Ora, io non voglio pensare a questo scenario pessimistico, ma credo, credo che qualche direzione vada cambiata, in particolare dalla guida tecnica. Credo che lo stesso Massimiliano Allegri debba prendere il mano, il timone, fare una bella sterzata su alcuni aspetti, non su tutto. Non si butta il bambino in acqua sporca, si butta solamente l'acqua sporca e si rinnova. E quindi c'è qualcosa da fare, senz'altro. L'urlo di Danilo, non deve mai passare inosservato e mi stupisce, perché mediaticamente narra e parla di calcio, i giornalisti pochi hanno riportato con grandi titoli e con grande importanza mediatica ciò che ha detto Danilo. Questo mi ha stupito. Cioè, andiamo a guardare tante cose frivole attorno ad Allegri, non guardiamo invece queste cose. Cioè, Danilo ieri ha lanciato una bomba a mano, praticamente, è esplosa questa bomba a mano, ma i giornalisti hanno fatto finta di non sentirla questa bomba che è esplosa. E quindi credo che chi narra e racconta calcio dovrebbe concentrarsi meno sul gossip e sulle cacate, ma più sulle cose concrete. Quel che dice Danilo è una cosa concreta. Ragazzi, non è che voglio dare anche ai giocatori, quando io parlo di analisi dei giocatori, le partite le perdono tutti, dalla società all'allenatore ai giocatori. Poi le colpe vanno ripartite non in maniera equa, secondo me, perché secondo me c'è una sproporzione sulla partita con Napoli, sulle responsabilità di Allegri, ha una percentuale veramente alta. E poi in parte anche i giocatori, nell'atteggiamento alcuni, molto indolenti, poco aggressivi, poca voia di sbattersi, e quindi ci sta. L'atteggiamento, ragazzi, al fine i giocatori sono quelli che vanno in campo. Tuttavia, possiamo dirlo che le colpe di Allegri non sono solamente sulla singola partita, è che noi, i critici, vanno a pesare quello che è stato il percorso finora fatto, ci aggiungono il carico di questa partita e c'è una linea di continuità tra tutte le prestazioni. c'è poco lavoro fatto sul campo e c'è poca costruzione, c'è poco gruppo, c'è poca cosa. Però ripeto, questa dinamica, che è una dinamica che può essere riscontrabile in tante aziende, non per forza solo sul calcio, è un qualcosa che mi preoccupa. Quindi, sapete bene che già le prossime partite sono dure, molto dure. Abbiamo il Monza in Coppa Italia, che sta facendo molto bene con Palladino. Avete visto in quanto tempo è riuscito comunque a dare uno switch alla squadra con il vecchio allenatore, stroppa, stava andando male il Monza. Adesso ha fatto tantissimi punti in una manciata di partite e il Monza va spedito verso una salvezza tranquilla. Quindi, gli allenatori contano, eppure era lo stesso materiale umano. Quando io sento invece, nell'analisi, una sproporzione sul livello calcistico della Juve e della Rosa, i ragazzi non ci sto, perché tanti di quelli che adesso commentano dicendo che la Rosa è scarsa, a inizio stagione avevano delle aspettative elevate poi sulla vittoria finale. E questo è un dietrofront sbagliato. Questi giocatori non sono, secondo me, messi in condizioni di rendere al meglio. Tuttavia, spesso ci sono dei concorsi di colpe. Alcuni giocatori non rendono al meglio, alcuni giocatori non si impegnano più di tanto, alcuni giocatori fanno degli errori tecnici individuali che magari pesano nell'arco di una partita. E questo ci sta tutto. Ci sta tutto. Tuttavia, l'errore può essere perimetrato dal momento in cui una squadra ha un po' più di struttura e un po' meno un'arechia. Aspetto le vostre opinioni sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale. Questa è la mia opinione. Non è verità assoluta. Più che altro, anche se la pensassi diversamente da voi, e che mi piace, mi piace la critica argomentata, apprezza il dissenso argomentato. Ho visto tanti commenti che in occasione della partita col Napoli tanti hanno dato più colpo ai giocatori e meno all'allenatore. Ci sta. Sono visioni differenti. Fa tutto parte della chiacchiera da bar. Perché questo rimane. Alcuni mi hanno detto colpo tu, però dovresti dire ogni giorno Allegri Out, perché così la Juventus... No ragazzi. State sopravvalutando il potere che ho e l'influenza che io posso avere nei confronti di una società per azioni che fattura miliardi. Cioè io sono colpo gobbo che tiro a campare, che parlo con voi di calcio perché mi ho piacere, perché uso gli strumenti, perché conosco la piattaforma YouTube, perché ho una formazione di estrazione marchettara, per cui ho una conoscenza dei social, tuttavia non sopravvalutatemi. Cioè io sono una persona come voi che beve le birrette allo stadio, magari mi vede qualcuno che mi riconosce, ci scambiamo due chiacchiere con molto piacere, ma non ho tutto questo potere di influenza. Avesse avuto veramente un potere di influenza, state tranquilli, che la mia voce sarebbe arrivata già dal momento in cui io gridavo allo scandalo per la partita dopo Monza. Eppure dopo Monza non è successo nulla, e colpo gobbo fino a Monza-Juve ha gridato, ha gridato a gran voce, aiuto società, è il momento di cambiare allenatore, e non sono stato assolutamente ascoltato. La società Juventus va per la sua strada, giustamente non ascolta uno come me. Io capisco benissimo, la società fa bene a seguire quelle che sono le proprie idee, poi il tempo dirà se quelle idee saranno sbagliate o meno, e poi ci saranno delle conseguenze di cambiamenti. Questo è. Un abbraccio ragazzi, a proposito, alle 12.30 sull'altro canale, Colpo On The Road, uscirà un video molto interessante, di un'esperienza grandiosa, ovviamente quel canale parla di viaggi, non di calcio. Se volete distrarvi, e vi piacciono i viaggi, vi piacciono i racconti, vi piacciono le esperienze di viaggio, vi racconterò cosa si prova passare una notte e 12 ore in treno, una bella attraversata, da Rovaniemi, l'inizio del Circo Polare Artico, a Helsinki. Ho mangiato al ristorante, vi farò vedere le cucette, vi faccio vedere un sacco di cose, vi interesserà, se siete appassionati di viaggi. Altrimenti ragazzi, sticazzi, fate come che non ve l'abbia detto. Un abbraccio, ciao e sempre fino alla fine. Forza Juve!